Oggi vorrei proporvi la lettura del libro scritto da Valeria Parrella, Piccoli miracoli e altri tradimenti, edizioni Fertrinelli. La Parrella con questo libro torna alle origini. La sua prima composizione risale al 2003, edita da Minimum Fax, Mosca più Balena, per la quale ha ricevuto il premio Campiello Opera Prima. Adesso ci troviamo di fronte a un libro che riprende la declinazione naturale, quella forse più riuscita di Valeria Parrella, la formula del racconto. I racconti in Italia sono sempre stati un po' bistrattati, ma la Parrella invece ne è una forte e capacissima, se così si può dire, esponente. Nel racconto è necessaria una capacità di analisi e soprattutto una capacità di parola non indifferente, perché in poche pagine bisogna trasmettere al lettore tutto quello che è l'essenza che un romanzo riesce solitamente a trasporre in tante, molte più pagine, dove c'è anche la possibilità di creare una trama molto più articolata, con la presenza di moltissimi personaggi, quindi un romanzo corale. Nel racconto tutto questo è molto più concentrato, per cui è necessario avere una specifica maestria, che la Parrella dimostra assolutamente di possedere. Certo, dal 2003. La Parrella ha compiuto davvero passi enormi. È una scrittrice italiana tra le più amate, tra le più seguite. Ritorniamo al libro di cui parliamo oggi. 12 racconti, 12 storie di donne, donne sessuate, con un erotismo quindi molto presente, di cui la Parrella risulta essere una grande interprete, sempre da un punto di vista linguistico, una grande capacità descrittiva, una grande capacità di rendere attraverso un approccio erotico, sessuale, storie, senza mai scadere nella banalità, senza mai scadere nella volgarità, cosa non facile da ottenere come risultato. 12 storie in cui le donne, le figure femminili, emergono forti. La Parrella, più volte, in diverse occasioni, ha rivelato che la fonte di ispirazione è la strada. Lei osserva, osserva le donne, osserva i loro comportamenti, osserva i loro dialoghi e spesso riesce ad attingere delle storie che poi prenderanno vita, anche se saranno storie nuove. Ma ciò che le lega, ciò che le contraddistingue è l'esistenza di queste figure femminili molto forti, perché le donne sono effettivamente forti, soprattutto quelle della nuova generazione, che sono più libere, più aperte, sostiene sempre l'autrice, da quelle che sono state un po' le costrizioni della nostra generazione. Per questi motivi e per tanti altri presenti nel libro, che meritano quindi di essere letti, noi proponiamo la lettura di questo libro. E vorrei lasciarvi con un piccolo stralcio che può dare un piccolissimo assaggio di questo libro che merita assolutamente di essere letto. «Lui amava il tennis, ma io sposai un altro. Quando facevamo l'amore già non aveva più il fisico per giocare una vera partita. Il fisico non c'entra, come te lo devo dire. Potrei battere un ragazzino. È una questione di stile, di tecnica. Il fiato non c'entra. Che sei un fumatore non c'entra. Che russi la notte come un trombone non c'entra. Non c'entrava, in effetti. A me piaceva persino quello. Che mi dimostrasse tutto lo stile e tutta la tecnica. Che non fosse l'età a fermarlo e neppure la pancia. Piuttosto, avvolgermi tra le lenzuola, me e ragazzina, lasciarmi solo quando io avevo perduto il fiato, con il cuore accelerato e membra stanche, una dolcissima voglia di dormire che si insinuava in me e mi impediva di pensare. Alla prossima.